Fratelli, c'è la crisi della vocazione. Non ci sono più preppi, mancano le sure. La chiesa deve richiamare queste pecorelle smatrite. In che mondo viviamo? Dove andremo a finire? Eh, le dovemmo trovare, dovemmo trovare e dovemmo fare ricerca, io dico, no? Eh sì, però sono attratta dal nostro abito. Ma tu mi fai? Eh, una donna me l'ha detto, dice, padre, madonna, io sono attratto dal vostro abito da prete. Come devo fare? Piscine, stai attento, però, se succede, ricordati che la paraccia tu è a questa casa. Eh, la battuta, è mangiata in una resa. A proposito di suore, sapete che è la sure Cecilia? No, no, è vero. Allora, in questo convento mancava questa suora. Suo Cecilia, trova a suo Cecilia, pia a suo Cecilia, non la potevo trovare. Un pomeriggio intero, di sera arriva suo Cecilia. Io sono stato tutto strappato, tutto brutto, scappolato. Madre superiore, suo Cecilia, guardate, che vi è successo? Che vi è successo? Mi hanno sequestrato, oh, Gesù, e mi hanno venuto andata per due giorni, due giorni. Poi è mancato solo oggi pomeriggio, eh, ma mi ha fatto parte che c'è i burri di male, però. Buon appetito, buon appetito. Eh, bello, 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 bello. È messo l'estero, bello. Ma io, a me ha mangiato. Ah, ah, padre, smemorato, smemorato, vi siete dimenticato. Che cosa dobbiamo fare prima di mangiare, eh? No, hai ragione, l'ha girato pure all'ora, che me l'ha arrivato. Non è volata? Eh, non c'è chiama la suora, a proposito. Chi ti chiamai? Suorcia cibia. E' mangiato che non la so. I capelli. Comunque. Sciacca con me, eh. Sciacca con me, tamponami. Oh, ma noi siamo bravi, non è? Eh, la tua storia più lunga quanto è durata? Bah, 15 secondi. Così poco? Mamma mia, che pazienza. Anche io un giorno riuscirò ad entrare in uno stadio. Io la rifarei, che dici? Anche io. Eh, vai, a seguire. Amorare io. Oh, vi ricordate dove abbiamo stoppato? Eh, mangiati, non lo so. Non lo so, non lo so. Immagino, non lo so. La chitarra? Questa, chita. Eh, voglio. La mette proprio più centrale alla... Ma anche cosa c'ho... Si, si, si. Ok. Ma una volta che andò dievini, o la **** di cosa sucu... E la gambe lo ripaccio. Non so, parla la macchina sua, andiamo a mettere la propria. Guardi, non faccia l'ospirità. Da capo, lo rifacciamo, da capo. Oh, ma noi siamo bravi. Oh no, no, che presenza. Arrivo subito! Come fanno fatta la com'era? Mannaggia, la morte, mi sono scordata la battuta. Non mi ricordo di parlare io. Facciare la tua aiuta. Scusami. Sì, sì, sì. Trucco! Oh, sei caputato il cameraman! Sì. Mi devi chiedere cosa faccio io. La potete fare a casa? No, è oramai, va. C'è un treno o che? Merodola. Che bacio perugina? Uè, quale bacio perugina? Hai capito che mi fanno... Che ti fanno qui? Beh, anche in sbagliato. Ci ammette qui. Mi faccio una spaccata. Ma laitsi mai Cattà? Cattà? Grazie a tutti.